Sì, non è vero, non è vero. un braccio arrivi al camera e c'è la canna greva ah niente ci ha voluto andare dentro dai dai vieni fuori vieni fuori vieni fuori vieni fuori è meglio la figura geometrica è una figura geometrica c'è proprio una bella merda qua c'è proprio una bella merda qua c'è proprio una bella merda qua un bastone oh madonna guarda qua guarda qua dobbiamo scegliere qualcosa per fare una cosa